In più lavoro otto ore, quindi ho detto ok, non è gestibile il mio metodo di studio basato su leggo, ripeto, leggo, ripeto, leggo, ripeto, vi torturavo da sola e quindi per me è stata una bellissima scoperta perché veramente si può ottimizzare il tempo. Stai rimettendo in gioco dopo tanti anni con una nuova prova concorsuale, con un nuovo ciclo di studi, con un nuovo corso di laurea, è impensabile per chi lavora e studia utilizzare il vecchio metodo. Senti cosa ci racconta Erika che puoi vedere poi dall'inizio del video se vuoi su YouTube, dice che gli amici la prendevano in giro perché dicevano cosa vai a fare un corso, ascolta le sue parole. Sto pensando di abilitarmi come assistente sociale ma riscrivermi a un'altra facoltà per avere un'altra laurea e in più lavoro otto ore, quindi ho detto ok, non è gestibile il mio metodo di studio basato su leggo, ripeto, leggo, ripeto, leggo, ripeto, mi torturavo da sola e quindi per me è stata una bellissima scoperta perché veramente si può ottimizzare il tempo e soprattutto puoi ricordare nel tempo. E se me l'avessero detto comunque un mese fa non ci avrei creduto. Poi te lo puoi ascoltare tutto, se me l'avessero detto un mese fa non ci avrei creduto. Puoi anche tu smettere di buttarvi al tuo tempo a leggere, ripetere, leggere, ripetere, leggere, ripetere inutilmente. Non serve a niente se non a frustrarti, a perdere tempo. Te lo dico perché ci metto la faccia da 30 anni e sto sentendo di tutto da quando c'è l'online. Trovami chi da 30 anni in modo continuativo ci mette la sua faccia, trovamelo. Per quello ti invito davvero con il cuore, con enfasi, a assaggiare, a toccare con mano la praticità con cui ti passo informazioni. E tutto questo, oltre che grazie a 30 anni di esperienza, anche grazie a una laurea in psicologia presa a pieni voti a Padova, master su master frequentati, va bene, ma lascia stare poi su quello, vai a cercare tu chi sono e cosa faccio. La cosa che a me interessa è il tuo tempo vale, tu vali, ottimizza le tue risorse. Due serate, puoi scegliere di frequentarle entrambi o scegli quella che a te interessa di più. Una sulla capacità di memorizzazione, di apprendimento, dove raddoppi già le tue capacità di ritenzione delle informazioni e le ricordi già nel tempo, le cose che immagazzini. E una seconda serata sulla lettura veloce, che chiamerei in realtà lettura efficace, perché già da subito vedi il prima e il dopo. Ecco qui, ti condivido, vedi, memoria, lettura veloce, dei mini corsi. Io sono veramente molto molto concreta, perché amo la praticità, ti sto cercando anche un altro video. Amo veramente la possibilità di fare che cosa? Di sperimentare da subito un risultato concreto e pratico. Subito, 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 se no non ha nessun senso. Il modo più rapido per prendere uno stipendio extra di mese non è a quale di strada di marito. Ecco, vabbè, viva la pubblicità, tutto spontaneo. Cos'è la cosa bella? Poi ti stavo cercando un altro video con il mini corso di lettura veloce. Impari già anche che cosa, guarda, la spontaneità anche qui, eh. Senti cosa dice questa signora? Quando hai finito di metterti a posto la mail, ci sentiamo io. Ho già finito, cioè in mezz'ora le avevo già scorse tutte e ho visto cosa dovevo fare a non fare. Roba che ci mettevo una vera e mezza, ci ho messo venti minuti. Roba che ci mettevo un'ora e mezza, ci ho messo venti minuti. Dopo una sera, questo me l'ha raccontato il giorno dopo. Quindi la sera ha finito il mini corso, il mattino dopo ho ottenuto questo risultato. Quello che leggeva in un'ora e mezza l'ha fatto in venti minuti. Vuoi provare anche tu? Ti aspetto. Ciao, ciao, ciao.